E' nata per mio papà, perché quando ero piccola mi portava a montare a cavallo con lui, lui pure montava quando è giovane, e quindi piano piano andavo poco quando avevo 8 anni, andavo una volta al mese così, piano piano mi sono appassionata, ho iniziato a montare tutti i giorni e niente, mi sono impegnata, è diventata una passione. La passione di migliorazione è nata da quando ero piccolo e ho iniziato a montare appunto all'età di 6 anni e ho capito subito che era il mio sport preferito, mi piaceva molto soprattutto il rapporto che il cavaliere poteva instaurare con il cavallo, quindi ho sempre portato avanti questo sport proprio perché abbiamo un essere vivente con cui fare dello sport e gareggiare. Monta la Farnesina, Sir la Farnesina, che è un circolo che stanno ristrutturando, dove sono anche nati e cresciuti di Inzeo e prima montavo all'Inzucherata con Raffaele Tagliamonte, adesso invece monto la Farnesina con Luca Marziani e Andrea Marina Agostini, sono i miei istruttori. Monto da Coata, monto quindi con Piero e ormai è un po' di tempo che monto con lui e niente, ho sempre montato con lui e proprio grazie a lui se oggi sono arrivato ad un certo livello e grazie anche all'aiuto di Giorgio Nuti che ogni mese ci aiuta a lavorare tutti i miei cavalli. La vittoria ai campionati italiani è a settembre, bellissimo, bellissimo, è il risultato di un anno, anzi anni di sacrifici, impegno e tanta dedizione e passione, quindi felicissima. Abbiamo vinto con l'Inzucherata il Master di Associazioni l'anno scorso e pure quello bellissimo, tantissime soddisfazioni, da maggio a settembre tantissime soddisfazioni. Allora, intanto la partecipazione a varie Coppe delle Nazioni è stata una delle mie soddisfazioni più grandi fino adesso, piazzamenti in Gran Premi di Gare Renchi, ma soprattutto la partecipazione alle Coppe delle Nazioni, da quando ero piccolo che non vedevo l'ora di partecipare ad una Coppa e la mia prima Coppa delle Nazioni è stata all'età di 15 anni. Perché è un'università molto prestigiosa e perché appunto unisce lo sport allo studio e quindi mi supportano tantissimo per lo studio, mi affiancano di tutor se io se necessito appunto di una mano in più e soprattutto anche mi hanno dato la borsa di studio quest'anno, quindi danno grande importanza allo sport e penso che sia un fondamentale. Io vengo molto aiutata dalle persone che mi stanno intorno, quindi in primis dai miei istruttori che magari mi mettono orarie di allenamento per non ostacolarmi diciamo lo studio e niente, mi ritaglio il tempo disponibile per studiare appena posso studio e penso che insomma quando si vuole tanto una cosa alla fine si riesce a farla prima o poi. Ho iniziato quest'anno la LUIS studio economia e management, sono entrato alla LUIS tramite meriti sportivi e tramite appunto questo accordo che hanno stipulato appunto la federazione italiana sport equestri con la LUIS e devo dire che è una cosa fondamentale per noi atleti e o studenti, credo che è giusto che ognuno di noi abbia anche un proprio percorso di studi e lo porti avanti. Ci sono alcuni della LUIS e alcuni che invece sono di altri circo e della Farnesina, anche c'è una ragazza della Farnesina che si chiama Giulia Pancalli e altri due ragazzi. La squadra è stata composta appunto precedentemente, un'altra ragazza che era in squadra con me anche lei studia insieme a me proprio nello stesso canale e appunto si trova una bellissima sensazione a fare una squadra perché il risultato oltre che per te stesso senti di doverlo fare anche per qualcun altro e quindi ecco è sempre un bel momento quando uno fa delle gare a squadra. Non so ancora bene cosa farò, però vorrei portare avanti entrambi e poi vedere cosa succederà. Ancora un punto introgativo. Sinceramente più cavaliere, però è fondamentale secondo me specialmente alla nostra età portare avanti un percorso di studi che ci possa permettere di lavorare in diversi ambienti da grandi. Il percorso, diciamo, abbastanza secondo me giusto da tutti i punti di vista. Io ho fatto un errore all'ultimo perché sono arrivata un po' troppo vicina, però insomma abbastanza soddisfatta. Poteva andare meglio ma abbastanza soddisfatta. La Coppa era un percorso abbastanza tecnico, attesa giusta e penso che il direttore di campo abbia fatto un buon lavoro. Parole. Sicuramente, oddio non lo so, forse coraggiosa, puntigliosa e forse disponibile, non lo so. Generoso, sensibile e qualche volta anche umile. Secondo me, io poi personalmente dico che è il miglior sport in assoluto perché sei a contatto con la natura, con un animale che è stupendo e quindi io penso che tutti quanti dovrebbero andare a cavallo e perché fa anche bene anche a livello mentale, cercare di staccare un po' da, non so, anche dallo studio oppure dal lavoro, da qualsiasi tipo di cosa per dedicarsi a qualcos'altro. Darsi all'ipica è importante perché fondamentalmente l'ipica è una cosa unica ed è un mondo a parte che bisogna, senz'altro, provare. E niente, allora, intanto, appunto, la gara a scuola è una bella, si trova una bellissima sensazione a fare una buona squadra perché il... Perché darsi all'ipica? Oddio, non saprei, non saprei perché, forse... Cioè, perché il nome? Ah, perché andare a cavallo? Sì, sì. Ah, no, certo, perché... Ehm... Ehm... No, non lo so. Non saprei... Non saprei...